bella ragazzo sono insane gamer ed oggi sono tornato su clash royale con un cesto opening che si ormai è risalente a dicembre questo cesto opening però meglio di niente diciamo dai sono riuscito a recuperare questo video qua che avevo fatto a dicembre dove apro la bellezza di quasi 16.500 gemme prese con le offerte di natale perché le offerte di natale erano vantaggiosissime direi di iniziare via a parte la mia nabbagina che cerco di stoppare il il recorder ma andiamo qui dove ci sono i bauli giganti apriamone uno trovo 1333 di oro 28 bombaloli 26 golem di ghiaccio 202 spiriti del fuoco buono buono un altro baule gigante mi becco 1752 di oro una clone 25 mega sgherri tanta roba e 230 ore di sgherri per il momento non mi posso lamentare per il momento perché sto prendendo 1725 uno scheletro gigante 25 mini pecca e 230 tesle apriamone un altro 1321 di oro 9 mini pecca ci dice a 7 moschettieri e 230 sgherri apriamone un altro 1407 di oro una congelo 25 palle di fuoco e 230 spiritelli del ghiaccio vai con i penultimi 1767 di oro 53 moschettieri 21 mega sgherri e 230 cannoni non male non male apriamo gli ultimi 1692 di oro 10 golem del ghiaccio 15 capanne dei barbari e 231 goblin lanceri arrivo a 12.000 quindi apriamone ancora uno 1660 di oro uno scheletro gigante 25 capanne dei goblin e 230 frecce perfetto sono a 12.852 ne faccio forse in tempo per l'ultimo 1340 di oro 14 scariche 26 razzi e 216 bombaroli not bad not bad apriamo lui il big boss prima potenziamo gli sgherri livello 9 ma ora si va aprire big boss che è il baule super magico questa parte da tagliare 4000 gemme spese al meglio trovo 3453 di oro 15 valchirie 48 golem del 52 capanne dei barbari sono finite le rare 441 bombaroli 6 scheletri giganti dammene delle altre 13 guardie attenzione leggendaria speriamo sia una che non abbia ancora o il drago infernale non male però ce l'avevo già va bene non è un problema posso potenziarlo al 2 intanto certo costano un occhio alla testa apriamo l'altro 3278 di oro una tornado 12 fornaci 18 valchirie 441 bombaroli 85 lapidi 18 pecca che posso potenziare di tanta roba perché sto facendo un deck e lo stregone di ghiaccio che mi mancava attenzione attenzione sta iniziando a girare bene il gioco lo stregone di ghiaccio mi mancava apriamo l'ultimo baule super magico che ci troviamo 2983 di oro 5 lapidi 174 cavalieri 267 mortai 6 clonazioni 110 tre moschettieri donno quanti me ne date 110 13 tornado o leggendaria cimitero cos'è successo al gioco what the fuck ma tre bauli super magici tre leggendarie mi stai cercando di dire che adesso è più facile trovarle come ben vi stavo dicendo qui ho la registrazione del baule leggendario allora come vedete adesso in questo istante ce l'ho nello shop lo apriamo baule leggendario una carta leggendaria 500 gemme apriamo oh il boscaiolo oh oh la furia la furia cazzo la furia la furia c'è oddio ci sono delle carte migliori quali il minatore però anche il boscaiolo oh sto iniziando a ingranare con le leggendarie voglio dire non le ho mai trovate figa le sto trovando tutte adesso grandissimo si può denotare che era vecchio questo questo coso qua perché doveva ancora uscire sia lo stregone elettrico no dovevano uscire i goblin cerbotanieri se visto sul fondo come vedete ho trovato oggi vi farò vedere questa breve clip che unirò nell'altro video del chest opening dove aprirò il baule l'offerta fortunata quella del chinese new year prima apriamo questo baule gigante dove trovo 1313 di oro un golem 26 domatori e ultima carta 229 spiritelli del fuoco not bad not bad adesso si va di là nella schermata delle offerte ci prendiamo quella da 5 euro e quella da 9 allora pagamento riuscito andiamo sui 147 di oro 7 barbai 23 scheletrini 43 frecce un cucciolo di drago una furia un pecca un pecca potrei trovare la leggendaria ma ci sono 20 razzo e volevi guarda che faccia non se l'aspettava prendiamo anche questa perfetto pagamento riuscito andiamo ad aprirlo con il lag 3989 di oro quanto oro ammazza oh 8 stregoni 159 goblin lanceri 37 capanne goblin 282 mortai 70 estrattori 19 specchio attenzione mi sa che c'è la leggendaria pure qua vai apriamola con noi cimitero vai così due su quattro tra due carte la posso portare al tre yes allora ho anche il baule del clan da aprire quindi 10 su 10 apri troviamo 1620 di oro 16 mortai 64 giganti royale 66 spiriti del fuoco 93 orda di sgherri 27 valkyrie sono finiti di tutelare attenzione 3 barilli dei goblin oddio 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 dimmi che il minatore dai il trago infernale basta tra il trago infernale non che io lo uso non lo uso proprio è inutile capisco che sia forte ma non tutti usano il trago infernale che è cribio non è possibile se mi sentite un po raffreddato è perché ho avuto la brillante idea di prendere aria il 27 di gennaio e fa freddo molto bene ragazzi per questo video è tutto bella alla prossima bene ragazzi allora ci vediamo dopo con un altro video che attaccherò a questo in cui aprirò un paio di bauli leggendari che avevo nello shop a dopo